Siamo in via Pescara a Chietiscalo, dietro alle nostre spalle ci sono le palazzine Ater, sono convolte da lavori ma ci sono problematiche. Oggi un incontro con i cittadini che chiedono cosa? I cittadini ci chiedono conto dei ritardi di un cantiere che sono dovuti peraltro a una serie di ragioni oggettive ed è una grande opportunità. Le ragioni del ritardo sono le solite, sono quelle che non sono diverse da qualsiasi altro posto d'Italia dove c'è un cantiere edilizio. L'Ater che cosa ha fatto negli ultimi 12 mesi? Ha fatto in modo che tutto quello che diventasse migliorativo dell'intervento del 2009, che è comunque un intervento leggero, di ristrutturazione leggera, fosse ben accolto. Però perché questo avvenga devono combaciare alcune situazioni. Qua c'è un condominio, qua non è l'Ater che gestisce i lavori del 110, l'Ater gestisce solo i lavori del Sisma 2009. E per quello che ci riguarda l'azienda che ha sospeso i lavori anche per mancanza di pagamenti, non imputa ad Ater il ritardo di pagamenti, ma i ritardo di pagamenti sono dovuti purtroppo a un giro che questi soldi, la parte dei privati, devono fare, devono transitare nel bilancio del Comune di Chieti. E mi dispiace dirlo all'assessore Stella qui presente che viene a fare polemica e politica su un quartiere popolare, il Comune di Chieti è il peggior comune dal punto di vista tecnico nel far transitare questi soldi dall'Aquila a Chieti, dall'Ater e dall'Ater all'Ater all'azienda. Se il condominio che ha una disponibilità fuori dall'Ater, cioè non è l'Ater che decide, vuole fare questi lavori con questa ditta, è un'opportunità. Altrimenti il cantiere Sisma 2009 deve essere completato, smontato, chiuso e rendi contato e poi può arrivare un'altra ditta, questo insomma è banale. Quindi la provocazione è, ma perché non riuscite a mettervi d'accordo con la ditta? Cioè voglio dire, sembrava la cosa più normale. Tutto quello che si fa sul nostro patrimonio con i fondi del 110 deve essere a costo zero per l'Ater perché l'Ater deve pensare con le poche risorse ad altro.